Vallo della Lucania, ristorante Vallo City, mi trovo qui in occasione della cena di beneficenza organizzata dall'associazione Mao a favore della ricerca scientifica. Io vi do un grande benvenuto, vi ringrazio per essere qui stasera. Ora, state prendendo parte ad una grande serata dedicata alla beneficenza e alla solidarietà. Mi presento per coloro che ancora non hanno avuto l'occasione di partecipare ai nostri incontri. Mi chiamo Antonella Tarquini e rivesto il ruolo di presidente onorario dell'associazione Mavu Onruz. Mavu è l'acronimo di Marsilio Always With Us, ovvero Marsilio sempre con noi. È una serata di beneficenza all'insegna della solidarietà e siamo molto felici per la partecipazione locale. Abbiamo fatto sold out in pochissimo tempo e spero che arriveranno anche altri eventi di questo tipo. Questi eventi sono importanti per supportare i malati oncologici della zona occidentana. Grazie al supporto di svariati sponsor, la prologo di Montano Antilia, la fondazione Grande Lugana, grazie alla dottoressa Pesce dell'ospedale di Lugana siamo riusciti un pochino a creare tante iniziative come queste e ne faremo anche delle altre. Sì, io penso che queste iniziative sono sempre molto efficaci ma non solo per la raccolta dei fondi che vanno direttamente ai pazienti ma per un aspetto molto più importante che va secondo me sopra ogni cosa che è far capire ai pazienti che non sono soli. Noi ci siamo e di qualsiasi cosa loro abbiano bisogno insieme alle loro famiglie devono sapere che c'è un'associazione sul territorio che gli sta vicino. Questo credo sia il messaggio più importante da far arrivare alla popolazione cilentana.